...i presenta l'ispettore Bramier, nel carosello giallo a puntate, il cotechino insanguinato. Oh, Caterina! Caterina, viene a vedere che belli i cotechini della famiglia Rubinetto! Oh, poverini! Adesso non si accontentano più di ammazzarli, ne fanno anche dei cotechini! Ma è spaventoso! Come li facciamo con le lenticchie? No, no, un momento, Caterina, potrebbero essere avvelenati. Allora li diamo al gatto. No, no, un momento, Caterina, ho un'idea migliore. Diamoli al capo della polizia! Ispettore Bramier, ottimi questi cotechini! È svenuto? No, è morto! E allora cosa facciamo? Ho un piano! Approfitterà di questa simpatica riunione musicale per porgervi una domanda. C'è nessuno in questa casa che conosce questa chiave? E dove l'ha trovata? Nelle tasche del maggiordomo. Il fu Jeremia Pascal. Ispettore? Sì? Questa è la chiave dell'enigma. E dove è? In fondo a destra? No! È qui! L'assassino è qui! In questa stanza! Io conosco il suo nome! Potessi sprofondare semente? Avete visto dire le bugie? Signori, a me mi sa che in questa stanza ci sia un trabocchetto. Posso sprofondare anch'io se non dico la verità. Sprofonderà? Non sprofonderà? Lo saprete la prossima puntata. Però che brevido! Solo a pensarsi mi viene freddo la schiena. Per fortuna che è una maglia Movil. Una maglia che ne vale tre. Sì, Movil è climatizzante perché protegge il corpo dagli sbalzi di temperatura. È antireumatica. Per il suo continuo benefico massaggio triboelettrico. È praticissima. Più si lava e meglio è. Asciuga in un attimo e non si deve stirare. Non si restringe, non infiltrisce e oltretutto costa meno. Chiedete maglie e pigiami Movil e ReuMovil, quadiuvante antireumatico, nei negozi che spongono queste insegne.